Ciao ragazzi, siamo della scuola Tiepolo e abbiamo presentato oggi il nostro progetto di Quiddis sul sistema nervoso e sui vari apparati. È stato molto interessante soprattutto perché a parte che il sistema nervoso già lo dovevamo studiare durante l'anno siamo riusciti ad approfondire parti che non avremmo potuto fare normalmente quindi secondo me è stato molto interessante anche da quel punto di vista. Ti ricordi ancora qualcosa? Vuoi che ti faccia un test? Com'è stata l'esperienza complessivamente? È stata bellissima anche perché noi siamo riusciti a migliorare i rapporti tra le persone all'interno della classe ci siamo impegnati per avere il contributo di tutti quindi la nostra presentazione è riuscita ad avere una forma solo grazie all'aiuto, al piccolo contributo di ogni persona e quindi questa è la cosa che più mi è rimasta del progetto e che più mi è piaciuta.